Intanto buonasera, ben arrivati a tutti gli ospiti di questa sera che sono venuti a vedere questa partenza di questa mostra di questa settimana. Cerco di spiegare intanto chi siamo, per chi ci conosce siamo Di Mano in Mano e Studio 2046 con Daniele Daminelli. Buonasera. L'idea è quella di presentare da parte di Di Mano in Mano Fine Art by Di Mano in Mano, che è la nascita di questo progetto che raccoglie un po' tutta l'eccellenza, diciamo, di quello che come Di Mano in Mano, come azienda, recuperiamo all'interno della nostra raccolta antiquariali, di design, di arte antica e contemporanea. Arriva e nasce un po' da quello che è stato un progetto pilota che magari qualcuno di voi conosce, che è Antico Online, che è stato un progetto in cui noi abbiamo cercato di capire se l'arte e l'oggetto di antiquariato di un certo pregio potesse funzionare anche su web e anche all'interno di un canale che non fosse la semplice galleria, la solita galleria. Il progetto ha funzionato e quindi abbiamo sviluppato Fine Art, dove abbiamo deciso di inserire come concetto e come idea non solo antiquariato e arte, ma anche tutto quello che è il design e quello che è la realizzazione artistica da parte dei designer, dei designer soprattutto italiani, ma non solo, del Novecento. Quest'idea qui ci sembrava vincente, ci sembra oggi attuale, perché il mondo moderno non guarda più solo in maniera monolitica o all'antiquariato o al design, ma sempre più cerca di far comunicare, di mescolare le cose, dove una dà calore all'altra. Poi cos'è successo? Che in una preparazione di tutto questo evento con Daniele, che era il nostro collaboratore, in parte cliente, in parte amico, ci si è trovati e a me è venuta la pazza idea di provare a credergli, ma se partissimo con una collaborazione, sono andato un po' in punta di piedi, però gli ho buttato lì il progetto e ho detto se facessimo una collaborazione, cioè noi dobbiamo preparare questo evento, abbiamo sfruttato il MOG, non so se tutti lo sapete, ma questa settimana c'è la mostra di antiquariato all'Amart, che sono gli antiquari milanesi, qui al Palazzo della Permanente, e durante tutta la settimana ci saranno degli eventi tipo al fuorisalone, per la prima volta, più di 40, 44 se non sbaglio, gallerie aperte, dove ci saranno delle mostre tipo questa. Noi dovevamo allestirla e ho chiesto a Daniele se aveva voglia di aiutarci come art director, come artista, nella realizzazione e nella cura di questa presentazione, di questa mostra. Quindi Daniele, lascio a te la parola per presentarti e presentare un po' il progetto. Sì, allora, buonasera a tutti. Quando Enrico appunto ci ha chiesto di poter partecipare e allestire, diciamo, in questa mostra mi ha parlato un po' di quelli che erano i pezzi della ricerca loro e subito, diciamo, nella mia testa è nata questa idea di poter fare, diciamo, il racconto di un nobile che, diciamo, ha potuto, può mostrare, diciamo, quello che è la sua collezione di pezzi privati, intitolato appunto Grand Tour, perché appunto si voleva mettere in scena quello che è, diciamo, la cultura di una persona nobile che ha potuto, diciamo, osservare l'arte consapevole di quello, diciamo, che è la storia che gli appartiene. E quindi praticamente abbiamo voluto mettere qui un allestimento di quello che potrebbe essere la casa di un collezionista colto, raffinato, che, diciamo, ha la possibilità di poi coinvolgere amici a condividere un po' la passione per il collezionismo. Spiego un attimo la collezione, eh? Sì, vuole dire. Cioè abbiamo, abbiamo dato, va bene, il nostro catalogo pieno a Daniele e abbiamo scelto un po' di pezzi. Quest'idea del Grand Tour a me è piaciuta molto perché, va bene, chi fa antiquariato sa che il Grand Tour era il grande viaggio che gli artisti facevano in Italia per imparare cos'era l'arte guardando gli scavi romani. Il nuovo concetto che ha portato Daniele era molto moderno e a me è piaciuto molto perché quando tu parlavi non attraversa solo l'Italia ma attraversa tutti i tempi, quindi buttiamo dentro il design. Era un concetto nuovo di presentare la cosa. Poi vorrei dire una cosa che mi ha colpito tantissimo sabato, anche l'occhio moderno di allestire. Cioè io ricordo sabato che era qui Daniele a dare gli ultimi ritocchi, c'era un quadro che era un micro mosaico che stavamo mettendo, ti ricordo, nella parete in mezzo e Daniele ha detto no, questo sta benissimo ma è troppo classico. In un contesto moderno non funziona e ha cambiato completamente dandogli un taglio nuovo. A me ha affascinato, cioè vedere che ci sia una capacità di vedere un occhio così nuovo e moderno nel disporre che dà valore all'oggetto al di là del contesto in cui è. La console non ha più bisogno di essere in un palazzo, in una grande galleria di console ma può avere davanti una fiorenza, delle poltroni di gioponti e comunicano fra di loro. Adesso ho parlato magari di raccontare quello che hai fatto tu però mi ha colpito. Mi fa molto piacere come me, ha colpito la cultura che ha Enrico sul mondo dell'antico e soprattutto la fortuna che hanno loro di avere nella loro collezione dei pezzi speciali di modernariato. Il tavolo che ci è esposto dall'altra parte di Osvaldo Borsani è un pezzo meraviglioso che io non l'avevo neanche mai visto e quando loro mi hanno mostrato questa collezione io sono rimasto incantato e con molto onore e piacere abbiamo voluto raccogliere l'invito a collaborare perché è veramente un rapporto onesto da cui è nato anche tra l'altro un rapporto meraviglioso di amicizia che è quello che io spero sempre che può succedere nel mondo del lavoro, che è la parte umana diciamo di quello che è poi una collaborazione fondamentalmente. Sì, di fatto sono già venute nuove idee quindi può essere che questa sia solo, buttiamoli, l'inizio di una serie di collaborazioni e di eventi di questo tipo. Mi piacerebbe poi se c'è qualche domanda però mi piacerebbe darvi un attimo due indicazioni su come si svolgerà la settimana, nel senso che in questo progetto come diceva Daniele prevede l'idea che questo ipotetico nobile che ha fatto questo collezionista accolga poi durante la settimana in casa i suoi ospiti per presentargli un po' la collezione. Quindi noi online trovate il programma sia sul sito di Di Mano in Mano che sul sito del MOG e qui ci sono i programmi, i cataloghi, se li prendete prima di andare via ci fa molto piacere e avremo mercoledì un appuntamento con un esperto di scultura che verrà a spiegarci fondamentalmente come la scultura barocca qui presente soprattutto in quella console e in queste due sculture che vedete all'ingresso diventa elemento sia di arte decorativa quindi appunto un tavolo pur essendo scultura e nello stesso tempo è scultura e quindi in mano di non artigiani ma di artisti che la realizzano e ci accompagnerà un po' nella lettura di questi pezzi. Poi avremo giovedì la giornata più impegnativa, più pregnante con la professoressa Proni che presenterà questo ciclo di Maccabri che vedete alle mie spalle e lo presenterà spiegando un attimino come nella storia dell'arte la morte e la raffigurazione della morte è sempre stata presente e è sempre stata comunicata con alcune particolari e ce li svelerà poi lei. Dopodiché avremo un aperitivo quindi se venite dopo la professoressa Proni verso le 18.30 credo inizierà un aperitivo e verranno l'ABC, la Sapienza che sono la cooperativa che lavora con i carcerati di Bollate che sono dei nostri amici un po' come noi molto legati al sociale e sono capaci di fare catering di grande eccellenza e quindi abbiamo invitato loro per quello e chiuderemo la serata con due amici che sono due insegnanti del conservatorio che ci accompagneranno con della musica barocca quindi giovedì sera avremo tutto questo popò di cose fino alle 11 saremo aperti e venerdì invece avremo un excursus attraverso Maurizio di Fondazione Borsani che ci spiegherà la nascita dell'atelier Borsani e il suo sviluppo presentando i pezzi dell'atelier Borsani presenti qui in mostra. Quindi in questo modo questo collezionista presenterà un po' durante la settimana tutti tutti i pezzi giusto? Giusto. Basta se avete domande e o curiosità se no vi lasciamo girare e guardare intanto questa esposizione, questa casa e siamo disponibili a qualunque domanda vogliate farci. Va bene? Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.